Ancora nessuna notizia di Anastasia Ronchi, la sedicenne scomparsa a Pavia lo scorso mercoledì. La ragazza sarebbe stata avvistata a Binasco, nel Milanese, a 18 km da Pavia, e poi su un treno diretto a Genova. Nastia, io non so se stai usando o meno i social. Per favore, ti prego, fammi sapere che stai bene, perché ho bisogno di sapere che stai bene. Se sei con qualcuno e questo qualcuno vede questo video, la prego, vi prego, noi abbiamo bisogno di sapere che mia sorella sta bene. Ferma un passante, chiedigli il telefono, mandami un messaggio dove ti pare, scrivendomi come ti chiamavo da piccola. Ma se qualcuno sa dove è mia sorella o se qualcuno è con mia sorella, almeno ci faccio sapere che mia sorella sta bene. Per favore. Era il 13 dicembre scorso quando Anastasia, una ragazza di 16 anni, si è allontanata dalla sua abitazione a Pavia. In questi giorni sarebbe stata avvistata in diversi posti, nel Milanese, successivamente verso Genova, poi a Viareggio, dove viveva con i genitori. I genitori sono in grande apprensione, noi siamo collegati con loro. Adesso andiamo con Gianluca Semprini. Ciao Gianluca. Non so se vi trovate adesso a Viareggio o siete nella nuova casa, perché prima viveva con i genitori lì a Viareggio. Abbiamo tante testimonianze, come dicevo Gianluca c'è tanta preoccupazione. Presentaci appunto tu, i genitori. A te. Certo. Allora, mamma in linea che ha già parlato più volte davanti alle telecamere, papà Giancarlo, la prima volta che invece è voluto venire a parlare, perché adesso sono passati nove giorni, oggettivamente quello che poteva essere, permettetemi il termine, una bravata. Una ragazza che in questo momento non viveva qua a Viareggio con i genitori, ma stava a Pavia. E quindi molto probabilmente è voluta tornare a Viareggio per incontrare alcune persone, di cui poi parleremo uno, due, tre giorni, alla fine la grande preoccupazione dei genitori. Ci sono stati tantissimi avvistamenti, forse sono due gli avvistamenti quelli reali, quelli su cui credete, Giancarlo? Sì, certo. Il primo è quello che è stato avvistato in data 13 alle 17.30 in Piazza del Mercato, da questa signora che ci ha contattato quando ha visto sui social l'invito di mia figlia e mi call. Quindi Piazza del Mercato è Viareggio e allo stesso giorno della scomparsa sarebbe arrivata da qua a Viareggio, da Pavia. Da Pavia. E lei è tornata a Viareggio semplicemente per incontrare un uomo, un tossico dipendente all'ultimo stadio, che continua a negare di averla vista, ok? Questo signore ha parlato di fronte alle telecamere, di un'altra trasmissione, ha dato una sua versione molto confusa, possiamo dire. E' un uomo, volevo chiedere a Elina, era un uomo che aveva avvicinato vostra figlia. Allora, possiamo dire subito che Anastasia è una ragazza di 16 anni, bella, bionda, molto sensibile, molto intelligente, però anche molto solitaria. Era una ragazza che ad esempio qua a Viareggio, vedete, siamo sul lungomare, dove vi erate trasferiti non da tanto, spesso ci faceva delle lunghe camminate da sole, delle lunghe camminate dove non aveva compagnia. Se non quest'uomo che ad un certo punto la avvicina e in qualche maniera la blandisce. Sì, mia figlia soffriva di solitudine e diceva, mamma, quando io trovo amici vorrei parlare con qualcuno perché non riusceva a socializzarsi, era molto fragile. E questo senza tetto ha iniziato a avvicinarsi, dall'inizio chiedere le mosine, dopo dire che anche lui solo, anche lui povero, e lei ha iniziato a sentire per lui pietà. Per dirvi anche la sensibilità di questa ragazza, di Anastasia. Anastasia come tante ragazze aveva i suoi miti, poteva essere Frozen da piccola, poteva essere il Pirata dei Caraibi, quindi Johnny Depp, questa figura molto bella. Lei aveva identificato anche in quest'uomo che aveva riconosciuto sostanzialmente l'attore del Pirata dei Caraibi. Sì, assolutamente giusto. E aveva idee romantiche della vita, idee romantiche delle persone che stanno senza cibo da soli. Quindi ha iniziato a frequentare queste persone perché pensava anche loro soffrano come lei. Lei ovviamente si è avvicinata a questi ambienti e proprio per allontanarla da questi ambienti da Viareggio i genitori decidono di mandarla a Pavia. Due settimane fa, lei sta circa due settimane a Pavia, la sua scomparsa nove giorni fa per l'esaltezza. Saremo trasferiti a Pavia a Natale. Perché voi la volete allontanarla totalmente da Pavia? Assolutamente, lei non può più vivere a Viareggio purtroppo, anche se è una bellissima città, una bellissima realtà, ma con queste situazioni non può assolutamente vivere. Assolutamente, non può più risiedere. Anche a posteriori, finito il percorso di recupero, tutto quello che volete, lei non può più stare qui perché lo incontra questo soggetto che praticamente vive su strada 24 ore al giorno. Allora, capite bene che questa è una ragazza, come ti ho detto prima Eleonora, peraltro molto lodata a scuola, molto brava, molto sensibile, studiava libri di psicologia, però facilmente poteva essere irretita da queste persone. così è la storia. Però adesso sono passati nove giorni. Adesso oggettivamente Viareggio ha 60.000 abitanti. Prima il nostro operatore vi faceva vedere, no? Una giornata normale. Le ricerche, la polizia, cosa dice? Insomma, non è un posto gigantesco. Ecco, allora le ricerche sono state molto capillari e si sono indirizzate soprattutto nei luoghi dove alcuni ambienti, tra virgolette, più borderline si vanno a rifugiare, si vanno a rifugiare la sera e non solo. C'è una casa sul Pino, così viene chiamata, c'è un'ex rubinetteria abbandonata, ci sono tanti posti, però i genitori hanno questa sensazione che ci possono essere due amiche, se non ho capito male, di scuola, che possono in qualche maniera aver coperto la fuga di Anastasia e averla nascosta, però dopo nove giorni... La fuga è stata pianificata, la fuga è stata studiata. Lei probabilmente ha trovato qualcuno che le ha prestato il mezzo per poter contattare e ci sono due o tre amiche che avrebbero potuto, non dico tutte e tre, ma una delle tre avrebbe potuto probabilmente aiutarla a mettere in piedi questo cinema. Lei in questo momento non dorme con questa comunità di homeless, sì, non ci dorme. Ecco, però capisci bene... Capite, i genitori non dormono più praticamente, girano anche loro, cioè fanno le ronde praticamente per Via Ricci ormai da nove giorni, sono convinti che lei sia qui, ovviamente al nono giorno si fanno anche tutti i pensieri peggiori e questo non ce lo dobbiamo negare. Eleonora? Certo, assolutamente, immagino appunto che è la preoccupazione, no? Poi il papà, lo ringraziamo, è la prima volta che parla in tv, ha deciso di parlare questa mattina perché c'è veramente una grande agitazione e ansia di capire dov'è finita questa ragazza. Nello stesso tempo poi le amiche magari possono coprire i primi due o tre giorni, però adesso sono passati nove giorni, sono veramente tanti. Poi, Eleonora, permettimi, la mamma mi sta... Dimmi, dimmi Gianluca, dimmi, vai vai. Sì, scusami, la mamma mi stava ricordando questo particolare fondamentale che, mi scuso, mi ero dimenticato. Anastasia deve prendere dei medicinali. Sì, per stato di salute, Anastasia da un anno prende medicinale e da mercoledì scorso è interrotta questa cura e quindi possono essere molto cattive conseguenze. Più problemi con Regni, da freddo che abbiamo e siamo molto preoccupati di stato di salute di nostra figlia perché nonostante che è giovane, era fragile psicologicamente e fisicamente. Certo, Anastasia, ricordo quest'ultimo particolare che è decisivo, nove giorni fa si allontana da Pavia senza soldi, senza documenti e senza ciò che ci tiene attaccato tutti i giorni alla vita e alla socialità, ossia lo smartphone. Porta però con sé uno zainetto con alcuni vestiti, quindi forse adesso è inutile dire il giorno della scomparsa era vestita così. Certo, si è cambiata, assolutamente, assolutamente. Però le indicazioni che mi hanno dato in Polizia di Stato un paio di giorni fa, che ringrazio perché sia la Polizia di Stato che i carabinieri si stanno muovendo in maniera stupenda, la descrizione che mi hanno fatto, mi hanno chiesto la signora che secondo lei una ragazza vestita così, 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 potrebbe essere lei? Sì, perché è bionda, con bionda tinta, con la crescita marrone e quindi è difficile... Per quello può essere il particolare identificabile, una ragazza alta, più di un metro e settanta, una bella ragazza, Eleonora. Allora, anche la sorella di Anastasia, Micola, che invece è un personaggio pubblico, quindi molto seguita sui social, ha deciso di affidarsi proprio a internet, al web, per fare un appello. Sentiamo. Ciao. Nastia, io non so se stai usando o meno i social, io voglio ingenuamente pensare che tu li stia usando. Non me la sento di mettermi a fare un appello in televisione perché non sono io la persona che deve farlo. Per favore, se stai usando i social, ti prego fammi sapere che stai bene, perché ho bisogno di sapere che stai bene. Se sei con qualcuno e questo qualcuno vede questo video, la prego, vi prego, noi abbiamo bisogno di sapere che mia sorella sta bene. tata, se invece tu hai un telefono e stai guardando tutto questo attraverso i social e non ti vuoi fare trovare, ti prego fammi sapere in qualche modo, in qualunque modo che stai bene. ferma un passante, chiedigli il telefono, mandami un messaggio dove ti pare, scrivendomi come ti chiamavo da piccola. ma se qualcuno sa dove è mia sorella o se qualcuno è con mia sorella, almeno ci faccio sapere che mia sorella sta bene. per favore, grazie.